Permettetemi subito di dire, visto le continue polemiche ai danni di Ancelotti, che se non sei capace, se veramente tatticamente la squadra non la sai mettere in campo, come molti pensano giustamente, in virtù delle loro qualità di allenatori da bar, se non sei capace, non li racimoli 12 punti in un girone di Champions, 12 punti su 18, 4 punti dei quali ottenuti con la squadra campione d'Europa, una squadra che diciamo forse non è così scarsa, il Liverpool, per chi non sapesse neanche questo, Quindi, ragazzi miei, alcune cose, prima di dire alcune cappellate, pensiamoci un po', pensiamoci, poi posso essere d'accordo che magari la squadra non lo segua o che abbia bisogno di una scossa, ma Ancelotti non è il problema di questa squadra e lo dimostra il percorso del Napoli in Champions League. Il problema è che secondo me questa è una squadra che si, che campa, campa troppo sulle motivazioni, cioè si va alla grande, via, alla grande. Alle prime difficoltà mi ha dato sempre un po' questa sensazione, magari sbaglierò ovviamente, alle prime difficoltà crolla, molla, getta proprio la spugna. Secondo me, perché questa è una squadra che se comunque ci mette carattere, sono giocatori forti e sono anche ben messi in campo, punto, sono anche ben messi in campo. Oggi giocavi col Genk, ok, magari sarà facile, ok, però hanno fatto delle azioni bellissime. Tu prendi il secondo gol di Milik, bellissimo, tu prendi il gol che ha portato a rigore, cioè l'azione che ha portato a rigore di Calleon, taglio, bellissimo. Allan poi tra l'altro è un giocatore che non deve mancare. Allan e Milik, due giocatori fondamentali. Milik fondamentale, che tra l'altro mi fa triplette e io ce l'ho affantacalto. Fondamentale, fondamentale giocatore, ma anche Milik è stato messo in discussione, anche Milik, vi ricordate? No, Milik che attacca tutti, tutti, finiscono tutti nel vortice, nella girandola delle critiche, tutti, tutti. È troppo facile così, troppo facile, troppo facile. Questa è una squadra che se ha voglia di giocare a calcio, può e sa giocare a calcio, ma ci deve mettere veramente cazzimma. Veramente cazzimma, a Napoli lo sanno cos'è, ce la deve mettere, ce la deve mettere Napoli in campo. E ci darà soddisfazioni, ci continuerà a dare soddisfazioni. Assolutamente sì, ed è quello che ci auguriamo. Perché è un 4-4-2 semplice e banale, ma se poi gli interpreti sono questi, la squadra va alla grande, la squadra va benissimo. Poi ovviamente ancora si vede che ha delle lacune, ha delle difficoltà. Perché comunque, nonostante la partita sia finita 4-0, nonostante la partita si sia disputata in un solo tempo, qualcosina l'ha concesso anche stasera il Napoli, a quel 18 là, che non mi ricordo come si chiama. Ma comunque, mica male, nigeriano mi sembra che sia, che si è procurato un paio di azioni, un paio di occasioni, e hanno avuto due palle importanti. Poi la partita si è messa bene, che ha subito fatto il gol grazie a quella cappellata assoluta del portiere. Ma dettagli, dettagli, il percorso del Napoli in Champions, parla chiaro. Non diamo addosso ad Ancelotti, non gli diamo addosso. Io, io, io sono, io sono, niente, io sono al fianco da Ancelotti, punto. Sono al fianco da Ancelotti, perché mai come in questo caso, la colpa non è assolutamente sua. Bene così, sono contento del Napoli, adesso tocca a noi, adesso tocca a noi. Un grande abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate, likecate, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Aneschio! Aneschio!